Per rispondere con maggiore puntualità alle esigenze degli associati nei vari comuni confesercenti della provincia di Brindisi ha messo in atto una serie di iniziative organizzative come la costituzione delle organizzazioni territoriali comunali fondamentali per rafforzare la presenza sul territorio. Con questo obiettivo il presidente provinciale Michele Piccirilo ha recentemente nominato Stefania Semeraro come responsabile dell'organizzazione territoriale di confesercenti nel comune di Mesagne con oltre 20 anni di esperienza nel servizio alle imprese Stefania Semeraro è laureata in economia e commercio ed esperta in formazione professionale e normative nei settori di commercio e turismo. Il suo compito principale sarà rappresentare le imprese associate di Mesagne promuovendo iniziative per la loro tutela e sviluppo. La dottoressa Semeraro offrirà check-up gratuiti alle aziende mettendo la sua esperienza a disposizione degli imprenditori locali. Confesercenti spera che queste nuove iniziative possano rafforzare ulteriormente la presenza dell'associazione sul territorio intercettando ogni necessità degli associati e favorendo uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile.